Ho finalmente una domanda intelligente, Serafini, sicuramente essere bello da far impazzire mi ha aiutato tantissimo durante la mia carriera Pensavo che eri carina e invece vedendoti a confronto con le altre sei proprio un cesso Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video diciamo di cultura coreana Oddio era un po' che non facevo video sulla Corea e finalmente un video sulla cultura coreana Allora oggi volevo parlare di bellezza La Corea è un paese che ha degli altissimi standard di bellezza La bellezza è considerata comunque una virtù che veramente vi potrà portare ad avere un grande successo nella vita Inoltre dal momento che essere belli in Corea ti dà così tanti vantaggi Ovviamente ciò porta praticamente amici e parenti, soprattutto parenti, a commentare sul tuo aspetto fisico Per esempio non lo so se ingrassi te lo faranno notare Se tipo c'è una parte del tuo corpo che dovresti migliorare te lo dicono E tra l'altro ci scherzano anche sopra perché lo vedono veramente come un modo per spronarti a migliorare Vi dico già che mi sono basato molto su un video che ha fatto una youtuber che tra l'altro conosco ormai Che è GrazeTV che vi lascio il suo link in descrizione Inoltre vorrei anche ringraziare Persi in Corea che nell'ultimo video mi hanno menzionato Ho apprezzato molto, grazie Anna E ragazzi se volete andarvi a vedere anche il canale di Persi in Corea vi lascio il loro canale in descrizione Quali sono gli standard di bellezza più importanti per i coreani Allora il primo tra tutti è avere una V-shape Cioè avere un volto comunque molto diciamo triangolare è diciamo estremamente importante per i coreani Perché voi avete una faccia comunque più affusolata vi fa sembrare il volto più piccolo E avere il volto più piccolo per i coreani è veramente una grande botta di culo Cioè se avrete il volto più piccolo anche in tv sembrerete più belli Infatti ci sono un sacco di voci che girano sul fatto che comunque per essere una celebrity diciamo in Corea Devi avere la testa piccola La forma del viso la puoi cambiare con la chirurgia C'è un intervento chirurgico estremamente intensivo che può farti cambiare la forma della faccia Tra l'altro deve essere un'operazione estremamente rischiosa Però molte coreane e coreani decidono di sottoporsi a questo intervento Perché veramente ragazzi questa parte del viso può cambiare il vostro intero aspetto fisico Se avete una testa più piccola sembrerete sicuramente più proporzionati Questa è una cosa che succede anche in Giappone Perché non sapete quante volte mi hanno fatto i complimenti per avere una testa piccola Che all'inizio quando mi dicevano hai una testa piccola Ero lì ma cosa vuol dire? In realtà è un complimento per gli asiatici Vuol dire che sei più proporzionato E guardate qua vi posso far vedere alcune immagini di programmi televisivi In cui vanno lì con un... come si chiama? Per misurare la grandezza della loro testa La vado a misurare pure io Io so che la mia circonferenza di testa è 58 mi sembra Vabbè Un altro standard di bellezza è il fatto che bisogna avere un naso alto Però non deve esserci nessuna gobbetta La double eyelid Vedete questo taglio che c'è sulla palpebra? Ecco gli coreani lo apprezzano molto C'è da dire che di ultimo comunque si sta diffondendo anche il look Diciamo con... senza questo taglio Piace molto diciamo adesso è una specie di trend Però diciamo che in generale ci sono molte più persone che hanno questa double eyelid O vanno a farsi un'operazione per farsela fare Perché comunque se voi l'avete i vostri occhi sembreranno molto più grandi Il prossimo sarebbe avere una fronte tridimensionale Nel senso non piace molto quando la fronte è piatta Ma preferiscono quando ha questa specie di curva Perché così vi fa sembrare il volto più tridimensionale Tra l'altro questa è un'operazione che può essere svolta in due modi Il modo meno invasivo è inserendo praticamente delle... Non so penso gli acido iononico nella fronte O del grasso anche per farla sembrare insomma un pochino più pronunciata O in alternativa possono farvi un taglio mi sembra qui dietro Aprirvi praticamente la testa così Mettere la protesi Richiudere tutto e ricucire Tra l'altro questa è un'operazione che si è fatta con questa ragazza giapponese Per sembrare una bambola francese Ok La prossima è non avere gli zigomi troppo alti Lo so che in realtà questo è un po' in conflitto con diciamo il make up delle Kardashian O comunque la nostra cultura Perché a noi piacciono alla fine avere gli zigomi alti Molte si vanno a mettere comunque delle protesi o dell'acido iononico Per farli sembrare un pochino più in su o più pronunciati Anche perché vi farà sembrare se siete degli uomini la faccia più mascolina E se siete delle donne comunque un volto più pungente diciamo Tuttavia per gli asiatici questo non è considerato bello Innanzitutto perché vi farà sembrare più maturi E siccome praticamente la Corea è tutto concentrato sul cercare di sembrare il più giovani possibile Avere degli zigomi alti e pronunciati Diciamo che vi farà sembrare più maturi Per esempio c'era questa Grace che diceva che appunto lei ha degli zigomi molto pronunciati Io a 16 anni stavo camminando per la Corea un tipo la fermata e le ha chiesto di uscire Pensando che avesse 22 anni E ha detto che molto probabilmente era dovuto a questi zigomi così pronunciati Non lo so, solo a me piacciono gli zigomi pronunciati degli asiatici Cioè guardate che gnocco Comunque ci sono un sacco di operazioni per smussarseli e praticamente andare a limarli Per farli sembrare meno pronunciati Allora il prossimo è chiamato sumo Praticamente vi dice che se siete delle ragazze Una linea che va da qui alle spalle piuttosto diciamo delicata Perché se avete delle spalle più pronunciate Farà sembrare il vostro fisico come meno armonico e meno attraente per i coreani Il prossimo standard di bellezza è avere una vita estremamente piccola e sottile E infatti ci sono anche dei componenti ogni tanto di alcuni gruppi K-pop Che non vogliono mai stare vicino magari alla componente che ha la vita più stretta Per non sembrare più larga E questo ragazzi lo vedrete in tantissimi articoli Se ne parla spessissimo del fatto comunque che le coreane vogliono avere questa vita strettissima La prossima praticamente invece riguarda i polpacci Non vogliono avere dei muscoli visibili o comunque pronunciati Sulle loro polpacci perché non è considerato attraente È considerato attraente per le ragazze Perché sembreranno mascoline se per caso hanno dei polpacci pronunciati Il prossimo sempre riguardo alle ragazze è pesare meno di 50 kg Questa è una cosa magari non così popolare in questi ultimi anni Però in passato era proprio uno standard Cioè anche serie alta preferivano se le ragazze pesavano meno di 50 kg E questo anche perché comunque in Corea è molto comune che vi venga chiesto comunque l'età, l'altezza, il peso Cosa che magari non si fa così spesso in occidente ma in Corea sempre E se pesi meno di 50 kg Il fatto di avere comunque la pelle molto chiara Questo ci ha fatto un video dedicato Quindi se volete vedere comunque un video sull'ossessione dei coreani o comunque in generale degli asiatici per la pelle chiara Potete andarvi a vedere un video Una cosa interessante però che ho notato parlando di standard di bellezza comunque in Corea È che quasi tutti riguardano l'aspetto del vostro volto E non così tanto diciamo il fisico Sì anche il fisico però principalmente si concentra sul volto Avere un volto comunque attraente in Corea è veramente importante Sapete in Italia e comunque soprattutto anche in America Avere comunque un seno pronunciato e un sedere anche lì abbastanza pronunciato Soprattutto in America è comunque considerato un simbolo di bellezza e se ne parla tanto Mentre in Asia in generale prende molto meno importanza l'aspetto comunque del vostro seno Del vostro sedere cioè anzi molte ragazze preferiscono avere queste due diciamo parti del corpo Non particolarmente pronunciate per sembrare più armoniche e proporzionate Quindi come potete vedere praticamente gli standard di bellezza sono diversi da cultura a cultura E cambiano veramente tanto da posto a posto Inoltre poi volevo condividervi infine la storia di questa ragazza comunque Grace Che lei praticamente è andata in Corea e voleva fare l'idol Però praticamente c'erano vari manager che nel corso della sua carriera hanno detto Cavolo ma sei proprio un cesso cioè you are ugly tantissime volte E lei comunque si è sentita fuori luogo e questo le ha portato comunque un sacco di ansia Un giorno poi è stata finalmente accettata in una compagnia di idol anche piuttosto famosa Tuttavia quando è entrata si è resa conto di essere la meno attraente E tra l'altro anche il manager le ha detto cavolo pensavo che eri carina Invece vedendoti a confronto con le altre sei proprio bruttina Ha detto che è stata molto complessata da questa cosa E tuttavia ha detto che l'unico modo per migliorarsi era attraverso la chirurgia plastica E ha detto che praticamente molte di queste ragazze Perché spesso si parla di Corea di come le agenzie forzano le ragazze a farsi la chirurgia plastica A subire degli interventi di chirurgia plastica Perché diciamocelo pari pari solitamente se entrati in un gruppo idol Il componente più popolare quasi sempre molto spesso è quello più attraente Non sempre e non per tutti ovviamente però capita molto spesso che la componente più bella e più gnocca O più gnocco siano quelli più popolari Ed è sbagliato quando comunque l'agenzia vi obbliga a fare della chirurgia plastica Ma molto spesso come vi ho detto sono i componenti stessi perché sono diciamo condizionati dall'opinione pubblica Perché sapete se siete i più attraenti vuol dire che sarete più popolari farete più soldi eccetera eccetera Quindi diciamo che è un discorso piuttosto complicato Però insomma è un discorso che mi andava di parlare in questo canale E spero che apprezzerete il contenuto di questo video Io devo dire che secondo me non c'è niente di male se una ragazza o un ragazzo si prendono cura del proprio aspetto fisico E se non fanno del male a nessuno vi chiederei di non andarle ad insultare Perché comunque anche questo è body shaming e non è giusto in ogni caso Spero che questo video sulla Corea che era un po' che non facevo video sulla Corea vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video E state attenti Sorpresa di fine video chiediamo a Sol Mafia come è stata la sua esperienza da gnocco in Corea Ho finalmente una domanda intelligente Serafini Una domanda che tra l'altro non mi ha mai fatto nessuno non capisco perché Sicuramente essere bello da far impazzire mi ha aiutato tantissimo durante la mia carriera Soprattutto in un paese in cui comunque i standard di bellezza contano così tanto E il mio figaciume irraggiungibile diciamo che mi ha sicuramente aiutato a far partire questa mia carriera Incredibile E anche far vedere il mio talento proprio indefinibile a parole Però diciamo che non capisco se devo essere serio in questa risposta o no Provo a essere serio Diciamo che la Corea è un paese in cui gli standard di bellezza contano tanto Il fatto che io rientrassi un po' in questi standard nel senso che comunque ho la faccia molto piccola Uno degli standard più importanti è la grandezza della faccia Penso sia così anche in Giappone La faccia così piccola Gli occhi grandi Insomma le mie sopracciglia Ecco sono stato complimentato tanto per le mie sopracciglia per dirti Mi hanno aiutato a incominciare una carriera Ma perché comunque io lavoravo nel mondo dell'intrattenimento Quindi insomma chiaramente era una cosa importante Però allo stesso tempo a volte diciamo che ti senti anche Tipo un pezzo di arredamento Sono stato scelto il più delle volte Diciamo anche il 90% delle volte 95% delle volte per i lavori che ho fatto Solo per l'aspetto fisico Quindi per una persona come me che magari ha studiato teatro, canto, danza Insomma sono un ballerino lo sai insomma Da un punto di vista artistico non è che mi sono sentito molto Come si dice Non penetrato Come si dice C'è un punto di vista soddisfatto ecco Perché comunque ho studiato per lavorare nel mondo dell'intrattenimento Ma finivo sempre a fare lo straniero, bambolotto, belloccio Quando ero ancora giovane e belloccio Facevo il giovane belloccio E finiva lì insomma Quindi diciamo che c'hai i suoi pro e i suoi contro È vivere in un paese con degli standard di bellezza così definiti E che appunto ti cura l'aspetto fisico così tanto E tiene in considerazione così tanto l'aspetto fisico E questo è anche il motivo Ecco diciamo la cosa più importante Questo è anche il motivo per cui poi ho incominciato il canale YouTube Perché non mi sentivo realizzato a livello artistico Non sentivo che potevo creare Potevo far vedere quello che sapevo fare E quindi ho creato un po' il mio canale Ecco È troppo lunga questa risposta Mi sa che dovrei tagliarla